Salve, salve da Marco Calabro, per conto di Amaci Casa Italia e quest'oggi anche di Alleanza Mobiliere. Ci troviamo all'interno del Salone del Mobile 2017, stiamo entrando nell'Alpa. L'Alpa è un nome che ha fatto parte della storia degli imbottiti in una determinata parte del sud Italia. È un'azienda del 1956, è un'azienda che si è sempre distinta innanzitutto per la scelta della qualità e poi sicuramente la cura del design. Sono prodotti qualitativamente elevati, sono prodotti che hanno anche una presenza importante. L'azienda è un'azienda che opera in differenti segmenti e in differenti modi, è un'azienda che offre dalla pelle al tessuto, quindi le differenti possibilità di scelta che può richiedere l'utenza. Ed è un'azienda che ha anche una scelta stilistica ben precisa. Ripeto, la cosa importante è che alle spalle di tutto questo vi è una storia, una storia importante di azienda che ha attraversato veramente mezzo secolo. I prodotti che stiamo vedendo sono dei prodotti sicuramente piacevoli, gradevoli. La tendenza di questa fiera presentata in questa fiera dall'azienda è una tendenza che è coerente con quella che è la proposta di design italiano attualmente nel mondo. E' una serie di prodotti che sicuramente hanno modo di sviluppare un tipo di proposta che può essere sicuramente importante. Sto proseguendo, vediamo quella idea per esempio di chasse longa ampia che offre questo divano. Vado a dare un quadro nel complesso del prodotto. Qua stiamo sicuramente parlando di prodotti di livelli qualitativi veramente importanti. Stiamo parlando di prodotti che hanno una cura che senza dubbio è una cura di tipo sartoriale. Una caratteristica importante di questa azienda è la sua ecletticità, cioè la possibilità di offrire prodotti di differenti tipologie destinati a differenti segmenti, a differenti aree di mercato. E questo è anche un discorso da considerare. Noi già in passato come Amaci Casa Italia avevamo fatto un video a un prodotto dell'azienda e questo era avvenuto perché c'era stata segnalata da uno dei mobiliari associati ad Amaci Casa Italia. Ed effettivamente dobbiamo dire che abbiamo trovato riscontro a questo discorso perché veramente l'azienda propone una cura di particolari che sicuramente è degna di aziende di riferimento del mercato. Grazie sempre per ascoltare i video di Amaci Casa Italia, in questo caso nel Salone del Mobile 2017 in collaborazione con l'Aleanza Mobiliera.